ehi ciao siamo cavezzo e proprio qui cinque anni fa ha avuto inizio l'avventura di radio 5.9 dopo le scosse del terremoto del 20 e 29 maggio 2012 alcuni ragazzi decidono di trasformare un evento tragico in un'opportunità dando voce a tantissimi ragazzi che hanno voglia di ricostruire così realizzano web radio 5.9 che viene portata alla ribalta nazionale da mtv che realizza la serie radio emilia 5.9 la mia vita dopo il terremoto oggi dopo cinque anni la radio più viva che mai con oltre 20 programmi che parlano di sport impresa musica cinema e tanto altro web radio 5.9 è attiva sul proprio territorio i vantaggi delle web radio oggi i motivi sono principalmente due se sei un ascoltatore ovunque tu sia nel mondo ti basterà una connessione internet per ascoltare la tua web radio preferita non hai limiti numero 2 se sei un imprenditore che vuole investire su questo settore sappi che le web radio possono misurare i propri ascolti in modo reale i dati che abbiamo non sono proiezioni in ogni momento infatti sappiamo quante persone sono collegate al nostro sito con quale frequenza e per quanto tempo ci ascoltano per queste motivazioni e per tutti quelli che hanno creduto in noi fino ad ora l'idea per il futuro è sempre la stessa continuare a crescere senza porsi limiti e tu che aspetti alza il volume la musica sempre più in alto andrà come no come no perché lei racconta la realtà e se pensa quante volte mi ha aiutato ad esprimere ciò che avevo dentro anche se non avevo un senso in quel momento a quanta voglia di vivere e di non restare spento e mando questo mio messaggio con il vento e penso ad ogni posto in cui sono stato qualcuno con le noti o le parole mi ha ispirato dalla penna grazie grazie